Musica Prima del rompete le righe Pasquale, il Gubbio corre in vista del match del 3 aprile con il Ghivizzano Ai Box, Romano, Buoli e Proietti Città di Castello è ora ufficiale, il derby con il Sansepolcro si gioca lunedì 4 aprile alle 20.30 Volley playoff Superlega, Sirsefty Conad Perugia cade al tie-break, Verona allunga la serie Domenica di Pasqua alle 18, gara 4 al Palevangelisti B1 femminile torna l'entusiasmo e serenità in ottica playoff per la TUM Perugia Gentili telespettatori di TRG, benvenuti all'appuntamento informativo dedicato allo sport La serie D in primo piano con le formazioni Umbre attese ad una domenica di pausa Per poi ripartire verso il rush finale di campionato Altra giornata di doppia seduta per il Gubbio con l'obiettivo mirato sulla gara interna del 3 aprile contro il Ghivizzano Pienemente recuperati dagli acciacchi, post, poggibonsi, degrassi e ferri marini Mentre non hanno preso parte alla seduta odierna Romano, Boli e Proietti I primi due dovrebbero regolarmente rientrare in gruppo la prossima settimana Mentre per Proietti si prospettano tempi di recupero un po' lunghi a causa di un problema muscolare al polpaccio Nel pomeriggio Mister Maggi ha fatto disputare un test a ranghi misti Optando sempre per il 4-3-3 come sistema di gioco E confermando da una parte la linea difensiva formata da Bartoccini, Marini, Di Maio e De Grassi Sperimentando una mediana con croce, petti e conti Mentre in attacco spazio a ferri marini, sciamanna e crocetti Dall'altra parte invece difesa formata da Calombo, Fumanti, Schiaroli e Maggioli Centrocampo con Cuccia, Barbacci e Tibolla E tridente offensivo composto da Ferretti, Pucci e Zuppardo Domani ultima seduta settimanale prima del rompete le ricche Che durerà sino al pomeriggio di martedì 29 Allenamento pomeridiano per il Città di Castello Deciso a preparare la trasferta del 30 marzo sul campo della Massese Ieri i Tifernati hanno disputato un test al cospetto del Montone Capolista del girone A di prima categoria Suddiviso in tre tempi da 30 minuti Ciascuno, il risultato finale è stato di 8-1 per i Biancorossi Con DM autore di una doppietta Gli altri gol messi a segno da Karim Calori, Ventanni, Mancinelli, Gorini e Luparini Domani altra seduta pomeridiana Sabato allenamento mattutino con la squadra che si ritroverà poi Nel pomeriggio del lunedì di Pasqua Intanto è ufficiale Il derby Città di Castello Sansepolcro Valido per la prossima giornata di Serie D Si giocherà lunedì 4 aprile alle ore 20.30 al Bernicchi La decisione è stata ratificata dal Comitato Interregionale In seguito ad un ulteriore colloquio tra le due società Siamo alla Serie B Prove di formazione per il Perugia Atteso sabato alla trasferta sul campo della Virtus Lanciano La buona notizia riguarda Spinazzola Verso il recupero dal problema muscolare Che lo ha tenuto ai box nelle ultime due settimane E in odor di convocazione in terra bruzzese Dovrebbe recuperare anche Rossi Mentre resta in dubbio l'utilizzo di Bianchi Per questo Bisoli pensa al 4-4-1-1 Visto nella trasferta di Cagliari Come modulo iniziale davanti a Rosati La difesa da destra a sinistra Dovrebbe essere formata da Molina Volta, Mancini e Rossi Centro campo con Spinazzola a destra Guberti sulla corsia opposta Rizzo della Rocca coppia centrale E Zapata in appoggio a Guirre In attacco con Bianchi in campo Dal primo minuto invece Tornerebbe in auge l'ipotesi del 4-3-3 Disegnato anche l'arbitro di Virtus Lanciano Perugia Si tratta di Renzo Candussio Della sezione di Cervignano Ed apriamo ora l'ampia pagina Dedicata al volle Analizzando i play-off di Superlega E la serie ancora aperta Della Sir, Safety Conab Perugia E Calzedonia Verona Ieri si è consumata a gara 3 Vediamo come è andata in questo servizio E di Verona il terzo atto della serie De quarti di finale scudetto di Superlega Nell'ennesimo match combattutissimo Della storia tra gli Scaligeri E la Sir, Safety Conab Perugia Sono stavolta i padroni di casa Ad averla meglio al quinto set Il primo periodo è di Perugia Per 23-25 Ma Verona si rianima E passa a condurre per 2-1 Vincendo il secondo ed il terzo set Rispettivamente per 25-22 E 25-20 Il quarto set è dominato dagli Umbri Che chiudono sul 20-25 Rimandando il giudizio Altebrec Dove c'è sostanziale equilibrio Sino al pari 9 Ma poi Verona ha più energie Ed il 15-11 finale Significa 3-2 per gli Scaligeri Che accorciano così 2-1 nella serie Da evidenziare Gli oltre 250 Sirmaniaci sugli spalti del Palo Olimpia Per un vero e proprio esodo De supporters bianconeri Ed il consueto incitamento Dal primo all'ultimo pallone E domenica Si realpica nuovamente Questa volta però Al Pallevangelisti Difatti Proprio nel giorno di Pasqua È in programma La fondamentale gara 4 della serie Dove la Sir Avrà la possibilità Nel proprio palazzetto E davanti ai propri sostenitori Di centrare La terza vittoria Che darebbe l'accesso Alla semifinale Dove ad attendere C'è già la cura alzata Civitanova Non abbiamo giocato bene Abbiamo fatto un po' Dall'inizio Troppi errori Specialmente in attacco Non lo so Se abbiamo perso Un po' il ritmo di gioco Anche giocando male Siamo riusciti A arrivare a tie-break Penso che Lo sapete Non lo so In generale oggi Non eravamo Al solito E una cosa Dico positiva Anche giocando male Giochiamo alla pari Con loro Questa è unica cosa positiva Sicuramente Dobbiamo fare Molto di più Oggi Non siamo stati Così decisivi In battute Come allo solito E quella cosa Deve cambiare Perché il nostro gioco Deve essere Metto la pressione Diciamo Specialmente in quel fondamentale E dopo giocare Muro difesa Dico oggi Loro sono stati bravi Ma anche forse Noi un po' In questo momento Troppo mosci Per vincere questa partita E scendiamo ora In B1 femminile Per fare il punto In casa Tum Perugia Che insegue Un posto Nei playoff Voglia di playoff E' questo l'obiettivo Della Tum Perugia Che ha ritrovato Ferenità ed entusiasmo Dopo una prima parte Di stagione Troppo altalenante Nella ventesima giornata Del campionato di serie B1 femminile di volley Ultimo turno Prima della sosta pasquale E' riuscita A superare 3-2 Al pale evangelisti La capolista San Giovanni Marignano Le perugine Hanno impiegato 5-7 Per avere ragione Delle romagnole Legiferando Nei primi due parziali Subendo poi Il ritorno Delle avversarie Nei successivi due E conquistando Un te-break Infinito e vibrante Per 19-17 Due punti che lasciano Inalterata la classifica Che vede la Tum Al quarto posto A tre lunghezze Della zona Che vale i playoff E durante le festività Sono previsti Solo tre giorni di pausa Per le ragazze Di coach Bovari Che già ieri Hanno disputato Un test match Al pale evangelisti Al cospetto di 3M Puccio Ufficio Perugia E mercoledì 30 Si replicherà Sempre al palazzetto Perugino Questa volta Contro la New Font Morigubbio Con il mirino puntato Fu le trasferte di sabato 2 aprile a Cecina Il primo di 5 spareggi Con vista sulla post-season Io non mi tiro indietro Noi vogliamo Per Perugia Per la città Per noi Per la squadra Per i nostri tifosi Finché avremo Un goccio di sangue Ci proveremo Vogliamo i playoff Di nuovo Per la terza stagione Quindi proveremo A fare ogni massimo sforzo Per cercare di portarli Nuovamente A Perugia E siamo ai motori Il quarto Master Drivers Continua ad attrarre Campioni da tutta Italia Per quella che il 3 aprile In Umbria Sarà la domenica Del pilota Lungo la strada statale Tre Flaminia Nel comune di Scheggia L'evento motoristico Che inaugura La stagione delle salite Conferma la presenza Di Roberto Ragazzi Sulla Ferrari 458 Evo Del team Super Challenge Reduci da un test in pista Il driver padovano Diventa il quarto Campione italiano In carica Protagonista Dell'edizione 2016 Insieme a Simone Faggioli Omar Magliona E Antonio Scappa All'esordio Una manifestazione Organizzata dal team Racing Gubbio In collaborazione Con il comune di Scheggia E Pasce Lupevo Sarà invece Cosimo Rea La giovane promessa Campana Guiderà per la prima volta Su strada La nuova Liger GS GS51 Honda Il programma Prevede le verifiche Dalle 7.30 Del 3 aprile Mentre la partenza Della prima auto È fissata Alle 9.30 Con passaggi continui Fino alle 17.30 E una pausa pranzo Dalle 13 Alle 14 Il team Racing Gubbio Ha intenzione Di garantire Minimo 4 salite A ciascun pilota Considerando Che lo scorso anno Si raggiunsero 6 passaggi Bene Con questo è tutto Per quello che riguarda L'informazione sportiva Che tornerà Domani sera Alla stessa ora A voi una cordiale Buona serata Grazie a tutti